nel 2003 noi tre fratelli botti abbiamo scelto la tuscia per produrre vino di qualità creando l'azienda biologica tre botti i nostri vigneti si affacciano sulla valle del tevere a due passi dalla splendida civita di bagnoreggio la città che muore e il lago di bolsena che è il lago vulcanico più grande d'europa la ricchezza di questo terroir ci ha permesso di realizzare i nostri obiettivi attraverso l'innovazione e la sostenibilità produciamo da anni vini vulcanici indipendenti e bio siamo tra i primi vignaioli carbon neutral al mondo e vogliamo far vivere il nostro sogno attraverso le eco wine experience giornate dedicate alla scoperta della tributti ogni settimana organizziamo tour degustazione dei nostri vini e pranzi con i migliori prodotti della tuscia tra vigneti oliveti e natura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti